Il metropolitano di Salerno è un tema su cui non occorre fare battaglie politiche oppure impostare cavigli in termini di maggioranza, opposizione. Qua si tratta di tutelare un territorio e su questo livello dovrebbero essere tutti d'accordo, tutti i componenti, maggioranza e opposizione. Ognuno in casa proprio, se ha da fare chiarezza faccia chiarezza, però la metropolitana è qualcosa che rende più civile il nostro territorio. Questo fatto non è né di destra né di centro né di sinistra e da questo punto di vista tutti coloro uguali hanno ruoli politici di maggioranza, di opposizione, di governo. Nelle istituzioni devono fare la loro parte affinché questo problema si risolva e si risolva presto evitando che i cittadini possano subire un disservizio gravissimo e possa essere impedito a questa città, non solo a questa città, a questa provincia, perché ormai è un servizio di sostegno non soltanto dei cittadini della città di Salerno ma di tutto il territorio provinciale, questo servizio possa continuare, questo territorio possa svilupparsi. D'altra parte il servizio pubblico locale deve assolutamente risolvere questi nodi che sono strategici per il futuro.